E' stato isolato in Puglia il primo virus influenzale della stagione 2013-2014. E' un virus di tipo A, sottotipo H3N2, isolato da un tampone faringeo prelevato da un barese di 66 anni, non vaccinato contro l'influenza. La segnalazione del caso sospetto di influenza è arrivata dal medico sentinella Franco Mariani di Bari. Lo rende noto Maria Chironna, responsabile del centro di riferimento regionale per la sorveglianza virologica dell'influenza, dove è stato compiuto l'accertamento e che ha sede presso l'unità operativa complessa di igiene diretta dal professor Michele IV del Policlinico di Bari, nell'ambito delle attività dell'osservatorio epidemiologico regionale. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane è atteso un aumento dei casi di influenza e degli isolamenti. Chironna ricorda che si è ancora in tempo per effettuare la vaccinazione contro l'influenza, considerato che siamo ancora nelle prime fasi dell'epidemia e che la vaccinazione è il più importante strumento di prevenzione primaria nei confronti della malattia. Gli italiani a letto con l'influenza sono già a 365.000 da quando l'Istituto Superiore di Sanità ha cominciato a monitorare il virus tramite la rete epidemiologica InfluNet. Nell'ultima settimana controllata, quella dal 2 all'8 dicembre, la stima dei nuovi casi è di circa 81.000, ma l'attività dei virus influenzali è ai livelli di base. Secondo i dati inviati dai 756 medici sentinella, il livello di incidenza totale è pari a 1,36 casi per mille assistiti. La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei 5 anni, in cui si osserva un'incidenza superiore a 4 casi per mille. Grazie.